Le novità di queste ore, in campo il neonato movimento Fratelli d'Italia, centro-destra nazionale. Noi siamo la destra autonoma, libera, capace di costruire una sua proposta diversa da quella di tutti gli altri, ma con la quale tutti gli altri dovranno fare i conti. Noi siamo qui oggi e saremo qui domani e quando non ci saremo più noi ci saranno i nostri figli e quando non ci saranno i nostri figli ci saranno i nostri nipoti perché questa storia non finirà mai. Noi siamo qui Noi siamo qui